Quest'anno la partecipazione di CNA Emilia Romagna si rinnova e si amplia con imprese artigiane che saranno inerenti a settori diversi. Quindi accanto al restauro tradizionale, la cui presenza è storica, avremo artigiani che si occupano anche di settori diversi, come il restauro dei veicoli d'epoca in tutta la sua filiera, quindi dalla carrozzeria, alla motoristica, agli interni. Avremo tutto il merchandising museale con un'oggettistica differenziata in vari materiali, dal legno alla stoffa alla ceramica. Avremo il restauro inteso come innovazione tecnologica, cioè l'abbinamento del restauro alla tecnologia con imprese che si dedicano a app museali e al restauro dell'audiovisivo, quindi cinema audio, quindi un panorama tutto tondo che riguarda le nostre 17 imprese partecipanti. Noi avremo uno stand piuttosto grande, variegato, dove le imprese hanno un loro corner e in questa collettiva CNA Emilia Romagna avremo uno spazio comune per rappresentazioni, dimostrazioni pratiche o seminari tecnici messo proprio a disposizione delle imprese che vorranno raccontarsi e raccontare al pubblico quello che loro fanno.